Vogliamo parlare della questione Ethernet, anche se sono passati alcuni giorni dalla sentenza che ha mandato libero il padrone di Ethernet e ha cancellato addirittura il rimborso ai cittadini colpiti del Basetto Aglioma, bisogna continuare a parlarne. Primo perché non c'è ancora una legge che cancella le questioni che sono andate in prescrizione, una questione vecchia, una questione che si protrae da molti anni e che in realtà non è mai stata voluta affrontare perché in passato serviva per un altro che è andato libero, ma questa volta lo scandalo è veramente grande. Perché è veramente grande? Perché qui sono 30 anni che la gente muore e si dice, gli esperti, gli scienziati dicono che ancora per i prossimi 20 anni moriranno dei lavoratori o delle famiglie o della gente che è stata vicina alla fabbrica della morte. Chi rimborserà questa gente? Chi pagherà queste morti? Chi provvederà alla bonifica dei siti inquinati? È una bella domanda e questa domanda bisogna assolutamente rispondere perché non si può continuare a costruire e a governare un paese con questi buchi, perché di buchi si tratta, di buchi della vita sociale, di buchi nella vita di tutti i giorni. E non è soltanto Casale Monferrato, non è soltanto Ballangera dove c'è la famosa miniera da cui si estraeva questa polvere assassina. Ma ci sono altri posti in tutta Italia, c'è l'Eternet di Bari, c'è Bagnoli, ci sono altri siti che sono altrettanto inquinati come quelli di Casale Monferrato e ci sono altrettanta gente che o è morta o sta per morire. Basta pensare alla questione della distruzione delle navi che non navigano più, le navi mandate alla distruzione. La 100% di queste navi sono ricoperte di amianto e i lavoratori che smantellano queste navi sono anche lì in una condizione di rischio, lo sono ora, lo sono stato in passato. Quindi è un problema nazionale, un problema internazionale, un problema mondiale, un problema che non può essere risolto con qualche promessa. La Presidente della Camera e il Presidente del Senato hanno assicurato che accelereranno il provvedimento per mettere all'ordine del giorno la legge che praticamente annulla la prescrizione del reato. Noi ce l'auguriamo che ciò avvenga, ma conosciamo abbondantemente e conosciamo gli interparlamentari come sono lunghi e qui bisognerebbe una volta tanto superare questi limiti del Parlamento. Per esempio fare dei decreti legge che abbiano un valore immediato, per cui alla scadenza il Governo e il Parlamento sono obbligati ad approvarlo. Quindi al di là delle parole passare ai fatti. Questa storia dell'amianto è un fatto che si prolunga nel tempo. In molte parti del mondo la questione è stata affrontata, è stata affrontata seriamente. Noi siamo ancora in ritardo con le bonifiche. Chi denuncia la presenza di amianto, e ce ne abbiamo moltissimo, moltissimo nelle scuole, nelle fabbriche, deve assolutamente denunciare la presenza dell'amianto e smaltirlo entro un anno. E quindi anche qui chi controllerà? L'organizzazione sanitaria locale, l'organizzazione sanitaria nazionale deve attivarsi per cancellare questo pericolo incombente su ognuno di noi. Non c'è ancora una posizione ben precisa sullo smaltimento dell'amianto. Non c'è una situazione ben precisa su come verrà smaltito l'amianto. Per ora c'è un processo di inertizzazione. Però non è sufficiente il processo di inertizzazione. Bisogna smaltirlo, bisogna stoccarlo e bisogna spendere soldi. Perché questo si tratta di una bonifica, tutto ciò si tratta di una bonifica di estrema importanza e di decisiva importanza.